Innovazione, finanza e mondo legale è proseguita con le fonti Innovation e Leadership Awards con focus su finanza, IT e mercato legale momento di commozione e standing ovation per il premio alla carriera assegnato a Franco Baresi storica bandiera del Milan e della Nazionale premiato per il proprio talento e per la lealtà che lo hanno da sempre contraddistinto boutique di eccellenza dell'anno diritto penale societario Rising Star il premio viene assegnato a Della Noce Legal per essere una boutique legale emergente capace di fornire assistenza a livello internazionale e internazionale, nazionale nell'ambito della procedura penale in particolare per la specializzazione e l'eccellenza raggiunta nel diritto penale societario facendone dello studio legale eccellenza di grande valore complimenti alla boutique dell'anno diritto penale societario Rising Star Siamo in compagnia di Paolo Della Noce founder dello studio Della Noce Legal buonasera e benvenuto buonasera, grazie le chiedo come si è evoluta nel tempo la professione forense in materia di diritto penale di impresa Questa è una domanda che necessiterebbe di ore per poter dare una risposta piena e appagante mi limiterò quindi a un mio breve pensiero sulla base di quella che è stata la mia esperienza in questi anni nell'ultimo periodo il legislatore ha emanato leggi regolamenti, decreti che vanno sempre più a toccare nella materia penale la professione dell'imprenditore quindi giocoforza l'avvocato che si muove nell'ambito del diritto penale di impresa deve essere sempre più specializzato bisogna conoscere a fondo normative che fino a due o tre anni fa magari neppure esistevano faccio un esempio tutti conosciuto il decreto 231 del 2001 entra in vigore nel 2001 ma col trascorrere degli anni vi sono sempre nuovi reati che vengono inseriti nel numero di reati rilevanti ai sensi di questa normativa e quindi l'imprenditore anno dopo anno recentissimamente con il Wilson Blowing ma nel 2008 con i reati in tema di sicurezza sul lavoro si trova a dover porre in essere nuove procedure comportamenti essere in compliance con nuove norme e questo lavoro è un lavoro che credo interessi sia l'avvocato civilista che l'avvocato penalista in un momento di congiunzione tra i due lavori quando i due lavori fra loro si toccano quindi per dare una risposta cosa è cambiato? è cambiato che bisogna aggiornarsi continuamente è cambiato il fatto che bisogna essere più specialistici più specializzati e è cambiato un nuovo approccio con il cliente imprenditore e con anche l'avvocato civilista che si occupa di diritto di impresa perché sempre più spesso capita che l'avvocato d'affari chiede aiuto all'avvocato penalista che si occupa di diritto penale di impresa per poter in modo congiunto sinergico può rinestere per esempio attività di compliance onde prevenire possibili contestazioni certo e quale peso oggi ha la comunicazione la trasparenza e l'etica professionale nei rapporti con i clienti? credo un peso sempre maggiore sia col cliente privato sia con il cliente impresa perché questo? perché non ci si accontenta più di andare dall'avvocato e di chiedere un servizio si vuole giustamente essere messi a conoscenza di tutto quello che può essere sia il potenziale sviluppo negativo o positivo dell'avvertenza, del procedimento della consulenza sia anche banalmente di quello che può costare io mi stupisco che solo di recente è stato introdotto l'obbligo per l'avvocato di fare un chiaro preventivo dei suoi costi è qualcosa che noi applichiamo che io personalmente applico da anni perché il cliente che sia un privato, ripeto, un professionista o anche un imprenditore anche un'impresa deve poter avere chiaro quelle che saranno i costi dell'attività chi si occuperà di quell'attività nella squadra e quale può essere il futuro di quel percorso lavorativo ha già accennato prima all'importanza dell'approccio interdisciplinare alla professione di avvocato e le chiedo comunque un suo parere riguardo questa tematica riguarda l'importanza di utilizzare l'ausilio anche di colleghi esperti in altre materie questo approccio ormai è fondamentale nel momento in cui un cliente ti si rivolge per un problema è chiaro che deve poter innanzitutto avere la sicurezza di poter essere eseguito a 360 gradi ad ampio spettro sotto diversi profili quindi non sotto il profilo prettamente penalistico ma anche sotto il profilo mettiamo amministrativo, diritto amministrativo del diritto civile perché spesso problematiche sono problematiche che si affacciano su diversi mondi e quindi bisogna avere anche le conoscenze, il know-how per capire se ci possono essere interventi da parte di altri professionisti questo non vuol dire avere degli studi legali dove sono compresenti fisicamente il civilista, l'amministrativista, il penalista ma poter disporre di una struttura elastica che all'occorrenza in modo chiaro così come ho parlato prima sui prezzi o su altro possa valersi di off-counsel per esempio o di professionisti e neanche necessariamente avvocati possono essere commercialisti possono essere psicologi possono essere esperti di comunicazione di marketing che si interfacciano su un singolo problema dall'origine quindi anche ab origine l'avvocato deve poter essere in grado di alzare il telefono o di convocare in riunione il professionista esperto che può dare un parere in più per un'analisi ad ampio spettro della tematica